Ciao a tutti, visto che non avete notizie di noi, stasera abbiamo deciso di ritornare e mostrarvi gli studios, non quelli della Pixar, ma quelli di Supertrampi, ovvero il posto dove nasce la magia, direbbe la Disney, in realtà dove nasce i nostri documentari. Questo studio elaborato e futuristico non è altro che questo, un computer aperto e un po' scassinato, e questa è la postazione dove lavoriamo, qui c'è tutto l'occorrente per montare un documentario, tipo calzini per affrontare l'inverno, carini no? E poi vabbè, poi abbiamo anche l'attezzatura serie di macchina fotografica, abbiamo libri che dobbiamo studiare ma nel quale non capiamo quasi niente, lasciamo stare, e poi c'è il computer dove, come potete vedere, stiamo editando la seconda parte del documentario sull'Islanda, quindi tenetevi pronti perché forse abbiamo ancora un mesetto di lavoro, ma arriva la seconda parte e ci sentiamo presto. Ciao ciao ragazzi!